L'Inter Beretti di Gian Mario Corti passa sul campo del Piacenza vincendo 2-1 e rimane in vetta alla classifica. Mi viene in mente il titolo di un vecchio film, Dio perdona e io no. In questo caso il Piacenza perdona, l'Inter no. La partita si è giocata su un campo reso insidioso e scivoloso dalla pioggia. Con obbligo di scarpe bullonate per l'equilibrio e l'aderenza al terreno. Inevitabile quindi i teckel e gli scontri fisici duri per le condizioni del terreno. Che rendono anche più difficili i fondamentali calcistici come il controllo, il dribbling e la corsa con la palla al piede. In questi casi gioco più veloce e partita agonisticamente molto combattuta per tutto a vantaggio dello spettacolo. Vediamo velocemente le formazioni. Piacenza, Criscione, Paesotto, Lautarisi, Scaffardi, Peroni, Piesini, Sartori, Bressani, Damuri, D'Ausilio, Arodi. A disposizione Pedrini, Visconti, Calosci, Libreri, Dialo, Soliani, Calò, allenatore Balestri. Inter, Bolchini, Zappa, Capitanio, Gallina, Minelli, Damo, Va, Toccafondi e Bocco, Brignoli, Russo. A disposizione dell'allenatore Corti, Clemente, Borsetti, Dienno, Rada, Spaviero, Kerim, Vitali, Gaidu. Fischio d'inizio e il primo a portarsi in avanti è il Piacenza. Piacenza che spinge soprattutto sulla fascia sinistra dove il numero 10 da Ausilio e il numero 9 da Muri con un doppio scambio si presentano dalle parti del portiere dell'Inter, Bolchini, con un tiro che è molto debole e finisce tra le braccia del portiere che para senza nessuna difficoltà. Sempre dalla fascia sinistra e sempre la coppia da Muri e da Ausilio confezionano il primo gol del Piacenza. Scambio ravvicinato che viene interrotto fallosamente ai limiti dell'area. Si incarica della battuta al numero 10 da Ausilio che trafigge barriera e portiere con un tiro sul palo più vicino. Piacenza 1, Inter 0 e grande entusiasmo in panchina e in tribuna per il vantaggio del Piacenza sull'Inter. Palla al centro e l'Inter ha subito l'occasione per pareggiare. Il numero 10, Brignoli, tocca la palla al numero 8, Toccafondi, che senza guardare serve un assist bellissimo al numero 9, Ebocco, che invece di calciare subito di sinistro si sposta lateralmente per calciare di destro ma il portiere è già sui piedi a respingergli. Punizione a favore dell'Inter, si incarica il numero 6, Damo, che conclude non facendo girare la palla sul palo più lontano ma cercando il corridoio raso terra sul palo non coperto dalla barriera. Il portiere si distende e respinge il tiro. Adesso è l'Inter che si spinge in avanti alla ricerca del pareggio e il Piacenza a chiudersi e agire di contropiede. Vediamo un'azione appunto dove il Piacenza cerca di sfruttare la ripartenza con lanci lunghi sugli attaccanti o sull'attaccante che stavolta viene anticipata dall'uscita del portiere. E ancora Inter, azione che si sviluppa dalla destra in orizzontale sulla sinistra per il numero 3 Capitanio che cerca l'imbucata numero 10 Brignoli che lascia scorrere bene la palla ma viene fermato a limite dell'area fallosamente dal difensore del Piacenza che viene ammonito. Si incarica della battuta al numero 7 Vai ma la palla è colpita non di collo pieno ma di un collo esterno e si spegne sul fondo. Si riaffaccia nell'area dell'Inter il Piacenza ma la conclusione velenosa del numero 9 da Muri finisce fuori. Si divora al trentesimo del primo tempo la palla del 2 a 0 il Piacenza. Da ausilio a centrocampo riconquista una palla. Velocemente se la porta avanti chiede il triangolo col numero 9 da Muri riceve il passaggio di ritorno e sull'uscita del portiere calcia clamorosamente a lato. Gol sbagliato, gol subito ma nell'azione che porterà al pareggio dell'Inter il Piacenza ha un black out collettivo nel senso che i portatori di palla dell'Inter riescono a giostrare indisturbati senza essere contrastati dagli avversari. L'azione non è veloce però il Piacenza sta a guardare e da un pallone a spiovere di brignoli nell'area del Piacenza si infila come un rapace il numero 7 vai che tocca il pallone in rete anticipando il portiere. 1 a 1 al 35 è l'Inter che vuole sfruttare il suo momento favorevole per aver raggiunto il pareggio e va vicino al secondo gol con un'incursione sulla fascia del suo capitano numero 11 russo che una volta entrato in area si libera del suo marcatore e calciarete un raso terra che il portiere devia ottimamente in calcio d'angolo. Gli ultimi dieci minuti del primo tempo le squadre sembrano pagate del risultato di parità e sembrano voler tirare il fiato. Il gioco ristagna centro campo e le verticalizzazioni sulle fasce e le accelerazioni improvvise vengono interrotte ai limiti dell'area e non si ha conclusioni degne di nota. grazie a tutti Grazie a tutti. A svegliarsi prima l'Inter con il suo capitano russo che chiama la Dunata, sottoporta i suoi due attaccanti. Il numero 9 è Boku che liscia clamorosamente da due passi e il numero 7 è Vai che si fa ribattere la conclusione dal portiere in uscita. E' l'ultimo sussulto del primo tempo prima del triplice fischio dell'arbitro che manda le due squadre al riposo. Secondo tempo passano 30 secondi e l'Inter si porta subito in vantaggio. Da un rinvio del portiere, palla giocata di testa da Damo al numero 2 Zappa che è un buono spunto e ritorna la palla al numero 6 Damo che taglia tutta l'area per la deviazione vincente del numero 9 e Boku. Inter 2, Piacenza 1. Ancora l'Inter che cerca il gol della tranquillità, sempre con russo che smarcato da un passaggio filtrante di un suo compagno, tira in porta e il portiere respinge con i piedi e la pericolosa conclusione. Non si dà per vinto il Piacenza e lascia tutti con il fiato sospeso Visconti che scattato sul filo del fuorigioco si trova tu per tu con il portiere che invece di scavaccarlo con un pallonetto tenta un problematico controllo di petto e la palla finirà fra le braccia del portiere. Botta e risposta, stavolta è l'Inter con Damo che ripropone la trama del secondo gol, palla tagliata nell'area piccola per la deviazione, stavolta non vincente di Boku che sfiora il palo alla destra del portiere. Piacenza se ci sei batti un colpo, Piacenza ne batte due di colpi, il primo sul palo, il secondo è un colpo che scalda le mani al portiere, davvero bella la prodezza salva il risultato di Bolchini. Il Piacenza ci prova in tutti i modi ma trova l'estremo baluardo sempre pronto a chiudere la porta. E quando è sempre bravo a ripartire il Piacenza, sempre in velocità, con azioni ficcanti, stavolta è sulla destra, però la conclusione dell'attaccante è da dimenticare. Partita agli sgoccioli con gli ultimi due tentativi dell'Inter di cambiare il risultato, ma il risultato non cambierà più. 2-1 vince l'Inter che ha sudato le proverbiali 11 maglie, ma alla fine ha ottenuto i tre punti che gli permettono di mantenere la vetta della classifica. 3-2 vince l'Inter di cambiare il risultato,